Sì, abbiamo fatto una grande partita, una prova di grande personalità, peccato per le pale che abbiamo avuto di gol, perché è stato molto bravo Donnarumma e si andava in vantaggio, penso che questa partita la vincevamo, però penso che abbiamo fatto tutto quello che il mister voleva, l'abbiamo preparato bene e l'abbiamo fatto, siamo contenti di questo. Grazie